Precaria questa vita. Precaria questa vita si trascina tra incertezze quotidiane e seri dubbi sul futuro. Ogni oggi e domani e nessun ieri può aiutarci nelle scelte. Tabula rasa delle esperienze fatte, dei sogni e delle speranze. La rinascita è d'obbligo e come neonati non possiamo che affidarci a chi ci vuole bene per sopravvivere. Sapendo che mai grandi diverremo, che l'età adulta è una chimera, che la contemplazione ci è negata, perché non c'è tempo per capire, per interrogarsi, ma solo l'attimo a cui aggrapparci. In attesa che il sole sorga ancora e ci colga con gli occhi ben aperti.